45 milioni di euro grazie a queste risorse a valere sul Pond Infrastrutture e Reti 2014-2020, la Regione siciliana darà l'opportunità alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico extraurbano regionale e comunale in Sicilia di rinnovare le flotte di bus, acquistando nuovi mezzi ibridi e a ridotto impatto ambientale. È stato emanato infatti da parte del Dipartimento regionale della mobilità e dei trasporti un apposito avviso per la manifestazione di interesse e le aziende che potranno chiedere un finanziamento per l'acquisto di massimo 7 bus potranno inviare la documentazione necessaria entro le ore 13 del 15 febbraio 2023. Gli autobus da sostituire Rottamare dovranno avere dei requisiti e cioè essere di proprietà delle aziende da almeno 5 anni, immatricolati entro il 31 dicembre 2010 e con una motorizzazione sino a Euro 5, a esclusione degli autobus Euro 0. I nuovi mezzi dovranno essere messi in strada entro il 30 settembre 2023 e nel decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento regionale della mobilità e dei trasporti, Fulvio Bellomo, vengono indicate anche le caratteristiche tecniche generali, il prezzo e le dotazioni minime dei bus che le aziende potranno acquistare. Si fa riferimento infatti alle attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone con disabilità, al contapasseggeri, dispositivi per la localizzazione, predisposizione per la validazione elettronica, videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente, sistemi di aerezione e climatizzazione, alimentazione a metano o ibrida. L'obiettivo che la regione persegue, afferma l'assessore alla mobilità e ai trasporti Alessandro Ricò, è quello di contribuire a ridurre l'età media del parco autobus circolante in Sicilia e migliorare la qualità e la sicurezza del servizio offerto, anche per disincentivare l'uso delle auto private. Così e anche attraverso la previsione di forme di alimentazione dei motori a basso impatto ambientale, conclude, possiamo dare un contributo concreto alla lotta all'inquinamento.